Ecco, guarda, com'è, è buono? Scusa, però, stai usando lo stesso cucchiaio che te lo sei messo in bocca. Ma no, niente, cioè, va bene. Per te va bene, per noi un po' meno. Ecco, io penso che lo fanno in cucina comunque. No, ma chi? Tu pensi male? Ma chi? Ma, scusa, ma ci sei mai stata in una cucina? No. Scusa, termina il tuo piatto perché tra un po' mi parto un neurone. Aiuto. Grazie a tutti.